Aldegani c'è la Roma, Savorani, preparatore per i portieri della Roma, ti ha avuto per tre anni e ti voleva portare alla Roma? No, portarmi alla Roma no, però l'ho avuto tre anni e insomma è stata una persona, una figura veramente importante nel percorso della mia carriera, una persona che mi ha dato tantissimo, che tuttora è in contatto con me, io posso solo ringraziarlo, però domani non sconti, non se ne fanno nessuno. Senza Totti, non convocato, però con un potenziale offensivo e non solo importante la Roma? Ma è normale che la Roma è la Roma e sta a casa Totti o sta a casa il Sarawi, hanno un potenziale che è pericoloso, che ti può mettere in difficoltà e sta a noi cercare di affrontare questa partita nel migliore dei modi. Come si può affrontare e come l'avete preparata con Zeman in settimana? Ma è preparata come abbiamo preparato tutte le altre partite, lavorando forte durante la settimana, cercando di apprendere il più possibile quello che il mister vuole da noi e domani è il sudore, quello che chiede la gente in questo momento difficile è il sudore per la maglia, la lotta, la grinta e poi speriamo che per una volta riusciamo a dare una soddisfazione alla città. Aldegani, per chiudere, qui ci sono le maglie di grandissimi campioni che hanno fatto la storia del calcio italiano e non solo. Se tu dovessi incorniciare la maglia di un portiere, incorniceresti quale? Perché? Quella di Peruzzi sicuramente. Perché? Perché secondo me dal mio punto di vista è stato il portiere più forte delle ultime generazioni poi adesso per carità c'è Buffon così, però prima di Buffon è quello che ha espresso questo ruolo al massimo livello.